Perissimi amici e amiche bentornati, nuova puntata del ciclo di catechesi dedicato al catechismo di San Pio X. Siamo arrivati nella sezione dedicata ai dieci comandamenti, abbiamo terminato l'analisi del credo e siamo partiti la volta scorsa con l'analisi dei peccati contro il primo comandamento, anzi abbiamo proseguito per la verità i peccati contro il primo comandamento. Abbiamo trattato in particolare la volta scorsa l'impietà, ossia il rifiuto di dare a Dio il culto che gli è dovuto e poi la superstizione, l'irreligiosità e l'irriverenza a Dio e le cose divine. Nel numero 170 il catechismo di San Pio X approfondisce la superstizione e l'irreligiosità, ricordiamo che parla anche dell'apostasia, dell'eresia, del dubbio volontario e dell'ignoranza colpevole delle verità di fede, che forse adesso sarà il caso di riprendere un istante, anche se l'abbiamo vista nella puntata precedente a quella precedente, cioè due puntate fa, ci siamo dedicati all'apostasia, all'eresia, al dubbio volontario e all'ignoranza colpevole delle verità di fede. Oggi dovremmo terminare sicuramente il primo comandamento e affacciarsi al secondo, il primo comandamento termina con delle notazioni diciamo così al positivo, cioè opposto alla superstizione è il dovere da parte nostra di venerare sia i santi che le reliquie dei santi, che non sono assolutamente gesti superstiziosi ma sono gesti propri della virtù di religione, quindi il culto evidentemente, ripartiamo dal numero 174, che dice così, se il culto delegatore è superstizione. Come non è superstizione il culto cattolico degli angeli e dei santi? E dice il Catechismo, il culto cattolico degli angeli e dei santi non è superstizione, perché non è culto divino o di adorazione dovuta a Dio solo, noi non li adoriamo come Dio, ma li veneriamo come amici di Dio per i doni che hanno da Lui e quindi per onore di Dio stesso che negli angeli e nei santi opera meraviglia. Sapete che questa è una delle tesi classiche, ahimè, del mondo protestante luterano, che afferma che noi siamo superstiziosi quando non idolatri o eretici, perché andiamo a prestare venerazione ai santi, alle immagini o a cose di questo genere. Pensate che ci sono membri di alcune sette, diciamo così, cristiane, che per esempio adesso siamo a ridosso del Natale, non fanno il presepe, perché secondo loro fare il presepe è un atto di idolatria, di sciocca superstizione e tra l'altro va anche contro la Sagra Scrittura, perché nell'Antico Testamento Dio disse non ti farà immagini alcuna né di ciò che sta lassù nel cielo né di ciò che c'è giù sulla terra, quindi se fai il presepe tu sei oltre che un bambinetto superstizioso seppur un idolatra perché contraddici l'Antico Testamento. Vedete, dico queste cose apparentemente, come tutte quante le affermazioni eretici, eretici, ci sarebbero dei fondamenti perché che nell'Antico Testamento c'è scritto questo, è vero, che non ti farà immagini alcuna né di ciò che sta lassù nel cielo né di ciò che c'è giù sulla terra, c'è un piccolo problema però, che nell'Antico Testamento il verbo ancora non si era fatto carne, che quindi non c'era ancora stata questa grande rivelazione che in realtà è decisiva, quindi del Dio che si è fatto uomo. E Dio si è fatto uomo perché? Perché l'uomo diventi un piccolo Dio, evidentemente non come Lucifero che ha voluto, che ha preteso di diventarlo per forza propria, ma noi siamo dei piccoli dei per partecipazione, già in forza della grazia santificante che viene infusa in noi attraverso il battesimo e i sacramenti. Questa grazia santificante che se trova un terreno adatto dentro di noi, se viene assecondata, se noi cooperiamo con essa, se ci lasciamo guidare dalle sue ispirazioni, ci porta alla santità. E quindi il santo non è un superman che viene venerato per se stesso, perché chissà chi sia. Il santo è semplicemente uno in cui viene glorificata la potenza della grazia divina. Certamente lui ci ha messo del suo, nel senso che ha cooperato con questo, ma l'autore della santità è Dio. Venerando un santo si contempla appunto l'opera miravigliosa che Dio ha fatto in quel santo. Ecco, quindi c'è questo evidente spazio adeguato in cui collocare il culto e la venerazione dei santi, per carità. Ecco, però detto questo i santi vanno venerati. Ora, chi sono questi santi, secondo il Catechismo è un esempio decimo, 175. I santi sono coloro che praticando eroicamente le virtù, secondo gli insegnamenti e gli esempi di Gesù Cristo, meritarono speciale gloria in cielo e anche in terra, dove per autorità della Chiesa sono pubblicamente onorati e invocati. Quindi, comprendiamo subito che la santità è la pratica eroica delle virtù, cioè osservare eroicamente gli insegnamenti di Gesù e seguirne eroicamente gli esempi. La santità richiede virtù eroica, attenzione, richiede virtù eroica, peraltro, che deve essere pubblicamente dichiarata da chi ha la competenza di farlo, cioè dalla Chiesa, durante i processi di canonizzazione, e deve essere rigorosamente verificata. Non si incomminano in giro attestati di santità a destra e a manca, cioè oggi quello è santo, quello è santo, quell'altro è santo, quello è un santo. Io suggerirei sempre estrema cautela. Punto primo perché prima della morte non si distribuiscono attestati di santità, perché fino al momento della morte noi possiamo essere tentati e purtroppo, ahimè, possiamo pure essere vinti dall'azione del nemico. Per cui non c'è nessuno, anche apparentemente consolidato nel cammino verso la santità, che possa sentirsi al sicuro. Nessuno. Secondo, molte cose che i santi vivono e fanno noi in questo mondo non le sappiamo, perché molte virtù dei santi sono virtù nascoste. Nessuno, per esempio, conosce, perché se si dovesse conoscere poi non è più santità, no? Per esempio, le preghiere solitarie, le mortificazioni, le penitenze di un santo vengono sempre conosciute dopo la morte, dalle testimonianze di qualcuno, oppure semplicemente dagli oggetti ritrovati nelle celle, no? Se uno va a San Giovanni Rotondo e vede, c'erano ancora una volta esposti, adesso non lo so se li hanno tolti perché c'è sempre la moda di togliere queste cose, no? C'erano, per esempio, gli strumenti di penitenza che usava padre Pio, ma gli strumenti di penitenza che uno li trova dopo che è morto e va a fare l'ispezione canonica dentro la stanza del santo, perché prima non è che quello li va sbandierati in giro, no? Quindi, gli attestati di santità li lasciamo dare alla Chiesa e si bene erano ovviamente come santi, soltanto quelli pubblicamente riconosciuti, dietro regolare processo canonico dalla Chiesa. Quando viene proclamato un santo, questo va pubblicamente onorato, cioè noi dobbiamo onorarli i santi commentari, dobbiamo riconoscendoli come nostri superiori, come nostri esempi e anche come nostri intercessori, praticando anche in questo modo non soltanto la comunione dei santi, ma anche la doverosa umiltà. Cioè, dobbiamo rendere… Attenzione che i santi non sono come le figure a cui è dovuto l'onore, poi lo vedremo. Nel quarto comandamento si dirà onore al padre e alla madre e l'onore dovuto ai genitori, che sono i nostri superiori naturali, perché ci hanno dato la vita, e poi dovuto analogicamente anche a tutti quanti i superiori legittimi che abbiamo durante la nostra esistenza terrena, addirittura comprese le autorità civili, addirittura. L'onore però, attenzione, è un tributo di giustizia che deve essere dato, risuona anche nella terminologia, per esempio i parlamentari si chiamano onorevoli. Perché è un onore oggettivo trovarsi in una posizione di autorità. Perché? Perché la posizione di autorità è un riflesso partecipato dell'autorità di Dio stesso. Quindi che ti collochi in una posizione oggettivamente di superiorità oggettiva. Ma questo non significa che tu sia meritorio, che tu sia meritevole. Perché la meritevolezza, se mi si passa questo termine, comporta il dovere di venerare il soggetto meritevole, mentre l'autorità comporta il dovere di onorare l'autorità da un punto di vista oggettivo. Se c'è un vescovo indegno di questo nome, tanto per fare un esempio, quello vescovo rimane. O un sacerdote indegno di questo nome, quello sacerdote rimane. Ricordiamo sempre gli esempi di San Francesco d'Assisi, che baciavano il famoso zoccolo del cavallo ai sacerdoti pubblicamente riconosciuti come grandi peccatori. Attenzione, però, la motivazione per cui faceva quel gesto San Francesco è importante. Dice io, sì, questo sarà un grande peccatore, però questo consacra. Perché il potere oggettivo ricevuto da Dio, per esempio, per quanto riguarda la potestà sacra, non viene perso mai. Non è che sono un grande peccatore non consacra più quando celebra la Messa. Certo, è un altro discorso di questi tempi. Può anche essere opportuno evitare frequentare certi ambienti dove, anziché essere edificati nella fede, ne siamo distrutti, anziché essere edificati nel culto da rendere a Dio, ne usciamo scandalizzati. Questo è un altro discorso. Ma attenzione, non viene perduta l'autorità del soggetto indegno e quindi il conseguente onore che è dovuto non alla persona, ma all'autorità che esercita per conto di Dio. Chiaro? Per i santi il discorso è diverso, perché i santi possono anche essere non sacerdoti. Per esempio, poi sono un laico comune. Anche un laico non battezzato, non sposato, pensiamo a un San Giuseppe Moscati o a un beato Contardo Ferrini, giurista. Non avevano né la dignità dell'ordine sacro, né la perfezione della vita religiosa e neanche quella comunque dignità che si acquisisce con la vita matrimoniale, quindi con l'esercitare la funzione di padre e di madre. Sono santi però. Quindi hanno praticato eroicamente le virtù cristiane. C'è bisogno della pratica eroica, amici miei. Eroica vuol dire eroismo. Eroismo vuol dire al massimo livello, quindi non è una cosa comune e per tutti. È qualche cosa che va fuori del comune. Molte volte noi scambiamo per santi quelli che possono essere, per carità, dei bravi cristiani, dei buoni cristiani. Viva Dio, ce ne fossero tanti. Però prima di dire santo, ce ne vuole, insomma. E noi veneriamo anche il corpo dei santi. Sentiamo il 176 perché così di sponda parleremo anche di un altro brutto vezzo di questo nostro brutto mondo contemporaneo. Noi veneriamo anche il corpo dei santi. Perché servì loro a esercitare le virtù eroiche. Fu certamente tempio dello Spirito Santo e risorgerà glorioso alla vita eterna. Pensiamo, nel versetto seguente parla delle reliquie dei santi. Voi pensate se fosse una prassi comune della Chiesa Cattolica di bruciare i morti, non esisterebbe più ma con una reliquia di un santo. Perché se li bruci, comunque con che le fai le reliquie? Voi sapete che le reliquie cosiddette di primo grado, facciamo un pochino di cultura religiosa, sono quelle tratte dalle ossa del santo. Ma se tu quello lo bruci, diventa tutto cene, le ossa comprese. Poi ci sono le reliquie di secondo grado, che sono le vesti, il frammento di un guanto insanguinato di padre Pio, di un indumento, eccetera. E che le reliquie siano così tanto importanti, per esempio, testimone il fatto che il contatto con le reliquie è salutare. Se uno parla, per esempio, con gli esorcisti, gli esorcisti vi diranno che durante gli esorcismi usano anche le reliquie e che i demoni al contatto con le reliquie soffrono terribilmente. Quindi che significa? Significa che la reliquia è santa. Molti corpi dei santi, il Signore li lascia incorrotti. Uno dei casi più famosi, quello di Santa Caterina da Bologna, Badessa, che sta ancora seduta sul trono. Oppure, famoso è anche il caso, che se uno lo va a vedere a Neverre, è impressionante. Di Santa Bernadette su Biru, io ci sono stato a Neverre, l'ho visto. È esattamente come era il giorno della morte, sono passati oltre 150 anni, insomma, circa 150 anni dalla morte di Santa Bernadette su Biru. Quindi il corpo si venera, cioè durante le esegue cristiane, avete notato alcune cose, no? Si asperge il corpo, il feretro, il cadavere con l'acqua santa, ma anche con l'incenso. Perché con l'incenso? Perché quel corpo, anche se quello non è stato santo, ma è stato il Tempio dello Spirito Santo, perché era un battezzato. Quindi c'è stato almeno qualche momento, se è un battezzato, almeno fino a quando c'è avuto l'uso della ragione, quello era un corpo in grazia di Dio. È stato un corpo abitato dalla grazia. Se quello si è fatto qualche comunione, dentro quel corpo c'è stato il corpo di Cristo. Non sono qui squiglie. Poi, per quanto riguarda un santo, il corpo è anche santificato dalla santità soggettiva della persona, che, attenzione, ridonda su tutto il nostro essere. Noi siamo sempre, non corriamo mai il rischio di fare un po' troppo gli spirituali, perché la nostra anima, certamente che è il principio della santità e non è che divento da santo, perché la mano si santifica in maniera, come dire, autonoma, indipendente dal resto del corpo e da me che la governo, no? Io le mani le posso usare per benedire, come devo fare da sacerdote per consagrare. Potrei anche usarle, Dio non voglia, per dare uno schiaffo a qualcuno, o un pugno, no? Ma il fatto che le mie mani, spero di usarle per il bene, oppure si potrebbero anche usare per fare gesti che è meglio non nominare, gesti turpi, no? Si usano le mani per farli. Quindi il fatto che io, delle mie mani, io o tu, facciamo un uso buono e ci rinasteniamo di farne da uno cattivo, non dipende dalla mano, ma dipende dalle scelte profonde che ho fatto, che ho maturato, che dipendono dalle mie facoltà spirituali, che risiedono come facoltà nella mia anima spirituale. Ma è chiaro che ridondano anche nel corpo. La lingua di Sant'Antonio, per esempio, sta ancora intatta a Padova, perché? Perché quello che era un grandissimo predicatore e ha fatto tanto del bene con la lingua, nostro Signore ha voluto glorificare quel membro e ha lasciato la lingua intatta. È chiaro che non è che la lingua è rimasta intatta e si è santificata, perché Sant'Antonio, anziché parlare a bambero, o dire le parolacce, o dire le bestemmie, ha predicato il Vangelo in una maniera spettacolare. Capite quello che sto dicendo? Quindi la santità, che certamente parte, come dire, ha come motore l'anima, ma ridonda sul corpo. E che cosa sono queste pratiche barbare? Io continuo a dirlo, perché poi ogni tanto mi scrivono pure un pochino di mail, dice ma lei padre ha parlato della cremazione, ma noi ci vorremmo far cremare, che problema c'è? E il problema c'è come? E non mi si venga a dire che la Chiesa adesso lo permette, perché il fatto che la Chiesa lo permette, uscì nel 2014, ripeto in continuazione, un documento, andatelo a cercare sul sito del Vaticano oppure su internet, un'istruzione a firma del Cardinal Müller e a controfirma del Papa, dove si diceva sì, adesso la Chiesa, a mio avviso, questa era una delle cose su cui si poteva pensare un po' meglio, come su tante altre questioni, perché tu permetti una cosa come eccezione e dopo diventa sempre la regola, cioè tutte le permissioni, tutte le permissioni entrate nella Chiesa sono tutte sistematicamente diventate regole. Io ancora mi chiedo, cioè mi chiedo da sacerdote, perché con quale miopia si fanno certe scelte, quando per esempio, se uno studia la scetica classica, si vedrà che c'era una rigidità impressionante, anche nelle comunità religiose, nei conventi, nei monasteri, nei seminari, nella vita di un prete. Io mi sono sempre chiesto, mamma mia, ma come mai tutta sta, perché anche a me che mi dicono che sono rigido, certe cose sembrano estreme, sembrano eccessive, ma sapete quando è che ho capito? Ho capito vedendo quello che è successo adesso, perché è chiaro che tu, come dire, alcune cose si possono concedere perché fatte in un certo modo, non ci sarebbe niente di male, però devi stare attento perché se tu dai quella concessione, specialmente con una legge generale, non come un provvedimento ad hoc al personam, passa il concetto, vabbè, sta cosa comunque almeno in qualche caso si può fare, quindi non è un intrinsece malum, come si dice in morale, non è una cosa intrinsecamente cattiva, quindi se si può fare, allora facciamola. È chiaro che non è questa la mens, come spiega il cardinal Müller in quella istruzione, la chiesa dicendo che si può celebrare, perché così è entrata, perché prima erano proibite le segui a chi si faceva cremare, tutti facendo che mi cremare e il funerale in chiesa non si faceva. Se vuoi fare il funerale in chiesa questa cosa non la puoi fare, però hanno cominciato a dire, però potrebbe darsi che io mi faccio cremare, perché non ho i soldi per comprarmi il fornetto, che adesso stanno con tutti questi macelli che fanno in giro, è chiaro che Peppe e Morici vogliono almeno 5 mila euro, detto proprio in termini prosaici, e se qualcuno non li lascia 5 mila euro e magari ci stanno intorno dei poveri che non li trovano, tentato a fogo e finito il discorso non devo pagarmi l'affitto del cimitero. Allora, se un povero disgraziato fa una cosa del genere, non gli fai il funerale? Capite, no? Il caso limite esiste sempre, d'accordo? Le peggiori leggi italiane che sono state fatte e che hanno fatto entrare dentro l'ordinamento italiano, il divorzio, l'aborto, eccetera, sono state tutte fatte con il caso limite, tutte. Ti pare che se una moglie viene ammazzata di botte sistematicamente, poi c'era il movimento femministe, deve subire per una vita le angherie di quel marito e non se ne può andare per conto suo, e ammesso che se ne è andata per conto suo, ma perché deve rimanere sola a vita e non si può rifare una vita. Queste sono le motivazioni in cui sono state fatte queste cose. E l'aborto? E se una persona viene stuprata, si deve pure tenere il resto che c'è dentro? Cioè il caso, lì adesso sto semplificando un po', ma sto cercando di far capire la razza di queste cose. Cioè la rigidità antica era motivata da una grande sapienza che i santi di un tempo e anche la chiesa di un tempo, perdonatemi, aveva e che adesso sembra essersi smarrita. Cioè il problema, facciamo consigli per gli acquisti di un altro ciclo di catechesi, lo spiega bene il nostro signore a tenere amata. Noi qui sulla terra siamo in stato di interdizione, siamo purtroppo come dei bambini piccolini che vanno controllati e noi dobbiamo avere l'umiltà di accettare questa condizione. Per cui le eccezioni devono essere molto circoscritte perché non siamo in grado di gestirle, perché appena qualcuno ci dà mezzo dito, noi ci prendiamo tutto il braccio, lo facciamo tutti, lo facciamo. Allora, un tempo la chiesa che era madre e maestra, dicendo io per evitare che questa eccezione poi diventi la regola e questo diventa un male, non te la concedo, finito il discorso. troppo rigido, ma vogliamo vedere anche noi che siamo diventati tanto bravi, tanto intelligentoni, ma vogliamo vedere l'educazione dei giovani o dei ragazzi? Che adesso non puoi neanche dirgli a che succede il finimondo, no? Un genitore che poco poco si azzarda a fare qualcosa viene denunciato. Adesso attenzione a quello che nessuno sta dicendo, che un genitore è autorizzato ad essere violento o a fare del male a un figlio, capite bene, insomma, no? Ma la sculacciata, cioè lì dove la schiena cambia nome non c'è nessuna controindicazione, non è che tu una persona lo menomi, d'accordo? O gli vai, non è che devi farlo a fargli male, a sfogare l'ira con violenza, ma in certi contesti la sculacciata può essere educativa. I maestri che ai nostri donni avevano la bacchetta e davano le bacchettate sui palmi della mano, non è che li rendevano monchi a quelle persone. Non sto dicendo che questo sia, come dire, da consigliare e da propugnare, però capite che da questo a che se tu oggi non stai attento, io ho avuto un buon modo di parlare con professori e con maestri, io non posso dire manco A, ma neanche A, che ti denunciano e se ti denunciano te ne vai in galera perché c'hai sempre d'orto quando fai queste cose. Vogliamo vedere i frutti? sono, stanno crescendo bene i nostri giovani, sono persone educate, sono persone con la spina dorsale, quindi capaci di prendersi responsabilità, di prendersi incarichi, cioè quei pochi che ancora si sposano, lo fanno a 30-40 anni. Il problema delle libere convivenze non è solo un problema etico, morale, nel senso che peccato mortale, e lo è, perché tu da battezzato non puoi vivere moruxorio con una persona senza il sacramento del matrimonio, ma oltre a questo c'è uno step seguente. Perché le persone vanno a vivere, vanno a convivere senza impegnarsi? Perché non sono buone a prendersi gli impegni, ci hanno paura. Cioè una scelta definitiva irreversibile, per farla ci vogliono gli attributi, chiamiamoli così in termini educati, ecco perché non si possono chiamare diversamente, ma gli attributi ti vengono, se tu hai avuto un'educazione fatta in un certo modo, non ti vengono per caso, perché se tu hai avuto un'educazione molle, remissiva e hai fatto sempre quello che ti pareva, tu non ti sposi e manco diventi prete. Perché? Perché tu vuoi sempre avere la possibilità di controllare, quindi se questa cosa non funziona io me ne sbarazzo il prima possibile senza troppi problemi. Quindi non c'è solo il problema etico e anche la conseguenza del dilagare della lussuria dietro questo punto, ma ci sono personalità non strutturate, non forgiate. sì. Siamo arrivati molto molto lontani, non volevo assolutamente io andare a finire così, però pensate alla distanza che c'è tra questo e un santo. Un santo non diventa santo se c'è un'umanità, attenzione, se c'è un'umanità come dire disgregata, come fa a diventare santo? La grazia di Dio, diceva santo Ammaso, presuppone la natura e la porta a perfezione. Poi è chiaro che Gesù fa pure i miracoli, quindi ricostruisce le persone, ricostruisce le umanità, ci ho fatto un altro ciclo di catechesi, da non senso alla vita di Cero, è tutto tanto un percorso, se abbiamo un'umanità ferita, distrutta dai peccati nostri o da quello che abbiamo vissuto, è possibile fare un percorso di guarigione, di ripresa di possesso, è sempre tutto quanto possibile, però stiamo sempre parlando, quello bisogna farlo perché se io mi porto dietro, tare tanto profonde, è chiaro che questo disturba, interferisce con un percorso di santificazione, per forza. Allora siamo partiti dalla cremazione, il fatto che la cremazione sia tollerata, d'accordo, o non proibita dalla Chiesa perché ci siano delle buone motivazioni e sia chiaro che non sia fatto questa cosa per sfregio al dogma della risurrezione della carne, non vuol dire che sia una cosa buona. Se tutti i santi se fossero fatti bruciare, addio reliquie, dietro di me non so se si vedono dallo schermo, io ce n'ho 4-5 qui in camera, con gioia, è un onore, alcune me l'hanno regalate, altre le ho chieste. Sono cose importanti. 177, perché veneriamo anche le minime reliquie e le immagini dei santi? Veneriamo anche le minime reliquie le immagini dei santi per loro memoria e onore, riferendo ad essi tutta la venerazione, affatto diversamente dagli idolatri che rendono alle immagini o idoli un culto divino. Attenzione, no? Cioè, voi sapete che la concorrenza, quindi gli affiliati del nemico, gli affiliati del nemico, per fare del male, a volte, sapete cosa usano? Oggetti. Un talismano maleficiato, se te lo regalano, prova a mettertelo addosso e poi guarda quello che succede. Un corno o un ferro di cavallo che già è superstizione e portarli, ma se ci fanno pure un lavoretto sopra, provatelo a mettertelo al collo. Poi vedi che succede. O, leggete i libri degli esorcisti, le persone che si ritrovano possedute perché gli hanno fatto mangiare proditoriamente qualche cosa che era stato maleficiato. Oppure, oppure, le fatture che vengono fatte sulle case, sugli oggetti, dentro i cuscini, dentro i materassi, sapete tutte queste cose qui, no? E come ci si difende da queste cose? Noi abbiamo, come dire, le controarmi che sono più forti e che non sono superstizioni. Noi abbiamo gli oggetti benedetti da portare addosso, la medaglia miracolosa, la medaglia di San Benedetto, il rosario, abbiamo lo scapolare, lo scapolare di San Giuseppe. Le reliquie dei santi da custodire, da venerare. Le immagini dei santi, i crocifissi, dentro casa ce le abbiamo? Non dico, insomma, come la casa di un prete, perché in casa mia non c'è nient'altro che quello, un pochino esagerato, ma tra questo e niente, insomma, non si può, no? E poi ci abbiamo l'acqua santa, e poi ci abbiamo le candere benedette, e poi ci abbiamo le sale esorcizzate, poi ci abbiamo le esorcizzate, poi ci abbiamo l'incenso esorcizzato. C'è un sacco di gente che mi sta chiedendo che l'altro giorno c'è una meditazione, l'incenso, cioè i sacramentali, pensate, mi vanno a chiedere, diceva, eppure l'ho spiegato, dico, qualunque incenso va bene da bruciare, ho già detto in quella sede, vedete quando uno parla, che l'incenso è semplicemente una cosa che profuma, d'accordo? L'incenso deve essere benedetto, almeno benedetto da un sacerdote, meglio si è esorcizzato, esorcizzato, perché funzioni come strumento di difesa contro le forze del male, perché l'incenso di per sé non fa niente al diavolo, non è che è il profumo dell'incenso, è la benedizione, l'acqua al diavolo non gli fa niente, l'acqua santa, sì, una candela accesa dentro casa, può essere una cosa che uno fa perché è carina, è Natale, ma se uno ha le candele benedette, la tiene sempre accesa dentro casa, ci sono tutte quante queste cose che guardate che non sono mica superstizioni, attenzione, queste cose sono elementi accessori alla vita di grazia, perché qui è chiaro che stiamo sempre, io mi muovo quando parlo di queste cose, sempre presupponendo che non è che tu ti metti ad utilizzare queste cose quasi in modo sacralmente scaramantico, cioè tu c'hai una vita completamente lontana da Dio, non te confessi, non vai a messa, non preghi e poi siccome pensi che c'è stata la scalogna o il male in qualche modo, ricordi a queste cose come strumenti di protezione, questo non sarebbe un uso buono di queste cose, tu c'hai una vita di grazia, tu c'hai una vita anzitutto di fede, che quella è la prima cosa per difendersi da ogni possibile inconveniente di vita, poi c'hai anche queste che sono le armi supplementari, perché esistono i sacramenti, esistono i sacramentali anche, cioè i sacramentali sono inferiori ai sacramenti, ma, come dire, li accompagnano, li completano in un certo senso, purché sia correttamente inteso. Le reliquie dei santi stanno in questo contesto, sono un sacramentale potentissimo, perché impregnate di quella grazia che ha abitato quei corpi. Quindi la venerazione va riferita evidentemente non al frammentino di osso, perché attraverso il frammentino di osso, che comunque è santo. Voi sapete un'altra cosa, no? Spero che la nostra anima, la nostra anima che è completamente, che è spirituale ma è immateriale, attenzione, è nel nostro corpo, la nostra anima è come Dio dentro l'universo, è presente tutto e dappertutto, cioè ogni atomo del nostro corpo è abitato dalla nostra anima. La nostra anima non è semplice, cioè questo bisogna capirlo, eh? San Tommaso quando parla dell'anima come forma del corpo spiega che l'anima è presente in tutte le singole e anche minime parti del corpo, con la totalità della sua essenza, si dice tecnicamente, anche se non con la totalità delle sue facoltà. Le facoltà spirituali della nostra anima si trovano qua, d'accordo? Nella parte dove sta il cervello, ok? Ecco perché se mi viene la meningite io divento ebbede, non è che non ho più l'anima, ma purtroppo quelle facoltà superiori dell'anima, tra cui intelletto, che fino a quando sto in questo corpo si trovano nella parte superiore del mio corpo e usano l'organo corporeo per funzionare, se l'organo corporeo si altera fino a quando sto qui dentro non funzionano più. Ma quando sarò morto, una persona che ha la meningite, che può sembrare una persona evidentemente ritardata, non lo è, non lo sarà, è un'infermità collegata al corpo, ok? Se mi rompo un piede io sto male, però non divento un ebbede perché l'intelletto sta nel piede, ok? Ecco, vabbè, tanto per... Allora, e questa è la risposta a chi dice che non si deve fare il presepe nel 178 perché se no siamo idolatri. Dio nel Vecchio Testamento non proibise veramente le immagini? Voi pensate che sulla base di questa cosa, penso che abbiate sentito parlare, ci fu il concilio di Nicea II, sì, non vorrei ricordare male, che proprio condannò l'iconoclastia, cioè sulla base di queste cose dell'Antico Testamento, delle immagini da adorare, a un certo punto sono cominciate alcuni eretici che andavano a proibire la rappresentazione delle immagini sacre, ma hanno tagliato le mani a quelli che dipingevano i dipinti sacri, dicono che è sta roba, questa è idolatria e il concilio di Nicea II ha condannato l'iconoclastia, cioè l'iconoclastia significa in greco la guerra, quindi il combattimento contro le immagini sacre, attribuendo a loro il peccato di idolatria. Sentiamo come risponde quel catechismo, ma Dio nel Vecchio Testamento non proibise veramente le immagini, Dio nel Vecchio Testamento proibise veramente le immagini da adorare, anzi quasi tutte le immagini, come occasione prossima di idolatria per gli ebrei, i quali vivono fra gli idolatri ed erano molto inclinati alla superstizione. Ora, vedete anche i criteri di lettura della Bibbia che sono fondamentali amici cari. Perché queste cose sono nate per esempio in ambito legato al protestantesimo? Perché nel protestantesimo uno dei principi fondamentali di Lutero per quanto riguarda la Sacra Scrittura era il libero esame, cioè la Sacra Scrittura io me la prendo e me la leggo e me la interpreto, non riconosco nessuna autorità capace di dare un'interpretazione autentica. e allora vado a leggere, non ti farai immagine sacra eccetera eccetera, né un peccato a destra a sinistra di quello che sta nel cielo, altrimenti questo sarebbe abominio. Ah! Guarda che c'è scritto nella Bibbia. Peccato che nell'Antico Testamento c'è scritto anche non mangiare il bue, non mangiare l'agnello nel latte di sua madre. In pochi sanno che per questo esistono i ristoranti ebraici cosiddetti kosher, cioè dove non si mangia insieme o si mangia la carne o si mangiano i derivati del latte, perché così non c'è pericolo di violare questa norma dell'Antico Testamento, ma capite no? Ora l'Antico Testamento in alcune cose va contestualizzato. Ora quando Dio si rivela come uno al popolo di Israele lo fa in un contesto di idolatria spaventosa, diffusissima, tutti quante le popolazioni erano politeiste, tra l'altro i cananei erano tutti quanti adoratori di demoni, perché alcune divinità cananee, per esempio Moloch, a cui immolavano sacrifici umani, sono demoni e avevano il totem, la statua, avete visto dove l'hanno messo Moloch adesso, la statua di Moloch, al Colossia, tu pensa un po', non so se ci sta ancora, ma c'è stato negli anni scorsi, non so se sta ancora lì o se l'hanno torto, ma c'è stato. Quindi le rappresentazioni che venivano fatte, questo è noto, nelle religioni pagane, tutti quanti per esempio gli dei dei romani erano tutti quanti rappresentati, tutti, Giove, Marte, Venere, tutti quanti, con gli equivalenti greci, Artemide, Apollo, eccetera. Allora in questo contesto è chiaro che devi proibire di perché, perché se tu autorizzi le immagini, ma quando gli verrà in test, quando interiorizzerà questo popolo rozzo, tra l'altro scelto da Dio, che Dio è anzitutto uno solo, uno, il che già è complicato, è che Dio non ha, è puro spirito, non ha corpo, quindi non è rappresentabile, Dio non è rappresentabile, Dio non è rappresentabile, la Santissima Trinità non è rappresentabile, poi sono state fatte alcune rappresentazioni simboliche, ma non è rappresentabile perché Dio non ha un corpo, è puro spirito. Cosa è successo poi però? Che è venuta l'incarnazione, cioè che uno dei tre, cioè la seconda persona da Santissima Trinità, è diventato uomo come noi, quindi dice la vita si è fatta visibile, dice San Giovanni, non l'abbiamo veduta, è toccata, quindi attraverso l'umanità Santissima di Cristo si è manifestata la divinità e quindi questo cambia tutto, perché in Gesù Cristo Dio si è fatto vedere, Gesù era visibile, aveva un corpo, aveva delle membra, tutte le rappresentazioni dei primi volti di Cristo che sono, l'avete visti, dell'iconografia antica, hanno dimostrato, adesso gli autori sono tutti quanti formati sull'immagine del volto impresso sulla Sacra Sindone, che era di antichissima memoria e che era un tempo custodito se si vedeva soltanto la faccia e quasi tutte quante le opere d'arte, se uno fa la sovrapposizione al computer, collimano, infatti quel Cristo rappresentato lì non è una bella immagine, ciascastocchio va sempre un po' così, il naso storto, perché? Perché il volto sindonico è il volto di una persona è stata massacrata, quindi non è un volto pieno di maestà e di serenità, ma è un volto tumefatto, è un volto sfigurato, quindi se tu rappresenti il Signore sulla base di questo, capite che non viene una cosa bella da un punto di vista estetico, però hanno subito a cominciare a rappresentarla e quindi poi Gesù Cristo c'è avuto una madre che era la più santa delle creature e perché lei la Madonna era essere umano, certamente era tutta divina ma era un essere umano come noi e quindi poi i santi in cui la vita divina posseduta in pienezza da Cristo e per partecipazione nella pienezza massima possibile della Madonna attraverso la grazia si è comunicata e quindi si possono rappresentare anche loro non per adorarli come nostro Signore ma per venerarli come colei che si venera per Antonio Masi e che era Madonna e che quindi si venerano di conseguenza, ma il contesto storico è cambiato, Gesù è avvenuto nella pienezza dei tempi, quando c'è stata la rivelazione trinitaria? Dopo che per oltre mille anni, quasi duemila se cominciamo da Abramo, si era stato battuto e fatta una testa tanta col monoteismo, perché voi immaginate se Dio si fosse rivelato subito come Trino sicuramente l'avrebbero detto, gli dèi dell'Olimpo non sono cinquanta, sono tre, c'è il padre e il figlio e lo spirito santo, questi sono tre dei, ma la realità non sono tre dei, perché non sono tre figure distinte, sicchette semplicite, sono distinti l'uno dall'altro ma sono uniti in una sola sostanza. Vabbè, adesso non voglio andare troppo lontano, diamo una scorsa rapida al secondo comandamento che è sempre un pochino semplice, non nominare il nome di Dio in vano. Numero 179, il secondo comandamento cosa proibisce? Ci proibisce di disonorare il nome di Dio, perciò di nominarlo senza rispetto, di bestemmiare Dio, la Santissima Vergine, i Santi e le Cose Sante, di fare giuramenti falsi, non necessari o in qualunque modo illeciti. È chiaro che ci sono delle gradazioni qui. Il catechismo approfondisce il giuramento, la bestemmia e il voto. Ora, nominarlo senza rispetto, nominare senza rispetto il nome di Dio senza intenzione di bestemmia, lo dico subito, è peccato, veniale, ma è peccato, quindi è un'abitudine che bisogna togliersi. Guardate che questa è molto inveterata, specialmente in Italia, cioè esprimersi dicendo, Madonna, ti raccontano una cosa, Madonna, non si dice questo qui, adesso io lo sto dicendo senza l'intenzione per far capire a chi mi ascolta, specialmente a chi ascolta il podcast senza il video che devo un attimo farlo capire. Non si dice, non si dice, di mamma mia, bisogna imparare a dire, oppure che ne so, quando uno dice, adesso qui cambio perché non mi piace l'espressione, o cribbio, però non dice cribbio ma dice un'altra cosa, non si dice. Gesù Cristo, la Madonna e i Santi non devono diventare intercalare, quindi quindi una nomina non riverente. Su questo gli ebrei, dico sempre, ci danno le lezioni perché il nome stesso di Dio nella Bibbia ebraica non si pronuncia, Yahweh è proibito pronunciarlo. La traslitterazione del famoso tetragramma ebraico è tale che quando incontrano il nome di Dio gli ebrei non dicono Yahweh ma dicono Adonai che sarebbe il sinonimo, l'equivalente signore ma non è il sacro tetragramma. Tanto il rispetto che ci avevano, neanche lo puoi nominare. Quindi tra questo e quindi la nomina, quando poi però dalla nomina, questo è un altro brutto vezzo, si passa alla barzelletta, le barzellette su Gesù Cristo, la Madonna, San Pietro, i Santi non si devono raccontare e che questo sia peccato veniale io su questo c'ho dubbi perché potrebbe essere più che un peccato veniale. C'è un proverbio popolare che dice scherza con i fanti e lascia stare i Santi. Noi non possiamo fare di Dio, della Madonna e dei Santi una barzelletta, anche se sia simpatica e carina. Già le barzellette e i Santi non le raccontano le barzellette. Non è sicuramente roba da Santi, attenzione che i Santi non è che hanno il muso e sono seriosi, ma ci stanno tanti modi di esprimere l'allegria, la facezia e l'ilarità senza ricorrere a queste modalità molto molto umane che per carità potrebbero anche avere degli ambiti leciti, una barzelletta pulita e garbata si può raccontare. Per carità, non credo che sia peccaminoso il fatto in sé. Certamente i Santi, io ho molti dubbi che facessero queste cose, ma sicuramente una barzelletta, a parte il barzelletto e oscene, che quelli sono sicuramente peccati mortali senza neanche aggiungere altro, ma a sfondo sacro non si racconta per nessun motivo. La bestemmia, 181, è chiaro che è grande peccato perché è un'ingiuria e uno scherno di Dio e dei Suoi Santi spesso ha anche orribile eresia e la bestemmia, attenzione, non è solo quella da scaricatore di porto. La bestemmia è anche dire perché Dio che è così buono fa morire di fame i bambini dell'Africa, perché numero uno Dio non fa morire di fame nessuno, facciamo morire di fame noi, d'accordo? Ecco. E numero due Dio non è mai soggetto al giudizio umano e non è mai tenuto a dare nessuna spiegazione né di quello che fa né di quello che permette. E questo dobbiamo sempre ricordarlo, stare al posto nostro, dinanzi all'Altissimo, che è un posto molto basso, perché lui è l'Altissimo, noi siamo bassissimi, ecco, meno che nulla. 180 che ho saltato volutamente, dice che cos'è il giuramento? Il giuramento è chiamare Dio a testimone di ciò che si affrema o che si promette. Perciò chi giura il male e chi spergiura offende sommamente Dio che è la santità e la verità. Il giuramento è lecito. Attenzione però quando ci sono delle gravi motivazioni per richiederlo. Per esempio un tempo si poteva tranquillamente giurare in tribunale. Io, prima di diventare, di assumere l'ufficio di parroco, ma anche prima di essere ordinato preto, ho dovuto fare un giuramento di fedeltà alla mia missione, al mio mandato. Il giuramento serve o per solennizzare qualche cosa, quindi io giuro di essere fedele a quello che mi impegna a fare, oppure per garantirne la veridicità. Cioè, che se tu menti stai chiamando Dio a testimone della menzione, è un peccato gravissimo. Il falso giuramento è un peccato gravissimo, così come lo scioglie da un giuramento. Tu sei vincolato con un giuramento a fare una cosa, a fare il contrario. È un peccato gravissimo questo qui. Giurare per futili motivi, quindi, è peccato. Non necessariamente mortale, ma non si fa. Il secondo comandamento che cosa ci ordina? Il secondo comandamento ci ordina di avere sempre riverenza per il nome santo di Dio. Sempre. Cioè, la nostra confidenza dovuta al suo immenso amore e non deve mai toglierci la dovuta riverenza. Sempre e in ogni circostanza. Nel parlare, nel muoverci dinanzi al Signore, nel comportarci dinanzi a Lui. E di adempire i voti le promesse giurate. Le promesse giurate, cioè le promesse a chi ho appena parlato, a cui mi sono vincolato tramite giuramento. Voto. Ora, il voto, attenzione anche ai voti. Il voto è la promessa fatta a Dio di qualche bene a Lui gradito, al quale ci obblighiamo in forza della virtù di religione. Attenzione che un voto, una volta fatto, deve essere adempiuto. E non si fanno voti a cuor leggero. Perché poi, per essere sciolti da un voto, ci vuole l'autorità canonica. Cioè, il parroco della tua parrocchia, o addirittura il vescovo, o il penitenziere, in mancanza di uno dei due. Però farsi svincolare da un voto è sempre una cosa, per carità, adesso non c'è tempo di fare una lezione canonica su questo qui, perché il voto potrebbe diventare impossibile. Però, prima di dire, ti prometto, perché poi il voto fondamentalmente è una promessa fatta a Dio. Non c'è bisogno di dire, faccio voto. Noi a Dio, ordinariamente, è bene che facciamo propositi. Signore, io ti offrirei volentieri questa cosa. Propongo di fare questo pellegrinaggio. Propongo di offrirti questo digiuno, questo sacrificio. Voti sconsiderati. Per esempio, ti prometto di non toccare più un dolce per tutta la vita. Per carità, questa è una cosa possibile. Ma tu capisci che significa non toccare più un dolce per tutta la vita? Se tu lo fai un voto a Dio, sai quante volte li troverai in circostanza in vita a una festa, a una cosa, a Natale, a Pasqua, e devi dire no, 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 no. Specialmente se c'è un minimo di... Se tu fai l'eremita, se fai l'eremita, rinuncia al dolce per tutta la vita. E te tranquillo. Se te la senti, fallo. Avendo un contesto di vita sociale, cioè certi voti, questo vi parlo un pochino per esperienza, ma non un attimo ponderati. Cioè, generalmente è sempre bene, e non farlo con voto, ecco, quindi offrire dei sacrifici, anche tanti al Signore, che siano sempre circostanziati e flessibili. Faccio il digiuno il mercoledì e il venerdì, va benissimo. Se tu però c'è la famiglia e ti invitano a una cena il mercoledì e ci devi andare per forza, il digiuno lo anticipi a martedì, se vuoi essere proprio... Si dice, no, non voglio perderlo, ma devi essere un attimino per forza. Perché, quindi, se tu l'hai fatto però, io faccio voto di digiunare il mercoledì e il venerdì. Poi, per spostarlo il martedì, devi chiamare al parroco, devi dire, guarda, mi è venuta questa necessità, mi puoi per favore dispensare dal digiuno, me lo sposti a martedì. Cioè, quindi, adesso con questo non voglio dire, perché la Bibbia, nella Sacra Scrittura dice, fate voti al Signore vostro Dio, adempiteli, i voti per antonomasia, come sapete, sono i voti religiosi, quelli che si fanno negli istituti religiosi. Cioè, uno può anche, per esempio, se uno fa una promessa a Dio, ti prometto di non toccare mai più una sigaretta per tutta la vita, questo io, se lo fa, perché toccare una sigaretta, poi ne parleremo al suo tempo, è dubbio che fumare sia una cosa moralmente indifferente. io ho molti dubbi, perché fumare è una cosa che fa male alla salute e alterare la nostra salute è sempre peccato, la nostra condizione di salute, perché tu vai a inficiare, a toccare qualche cosa, una perfezione che Dio ti ha dato e che tu devi custodire. Se il nostro Signore permette che ci venga una malattia, e la sua divina volontà permissiva, e che vuole metterci alla provo, che vuole faccia pure, ma se io fumo, sono io che mi metto in condizione di beccarmi, non una, ma una montagna di possibili malattie conseguenti a questo vizio. E quindi diceva, poi mi è venuto il tumore ai polmoni e sono morto. Ah, questa è la volontà di Dio. Attenzione anche a come ci si approccia, questa è la volontà di Dio. Quando mai? Una persona che muore a 60 anni per tumore ai polmoni perché ha fumato, questo non ci vuole tanto a capirlo, sicuramente dinanzi al Signore si troverà a rispondere, tu sei morto a 60 anni, ma sei morto a 60 anni perché ti sei suicidato, io non ti ho mai autorizzato a suicidarti, indirettamente ovviamente. Tu saresti dovuto campare fino a 80 anni, ma questi altri 20 anni che dovevi servirmi sulla terra, come li ripariamo? Che famo? Io sto semplificando, certamente secondo il nostro modo di parlare, ma qualcosa del genere dovrebbe succedere per forza. Attenzione anche a, perché dopo si diventa ridicoli con certi discorsi, un ragazzino, faccio sempre questo esempio, metti un ragazzino nei 18 anni che ruba la macchina alla Maserati al padre per andare a farsi la serata brava del sabato sera, se ne va in discoteca, si ubriaca alla grande, si impasticca come non mai, fa sesso sfrenato, dopo di che alle 5 della mattina esce fuori con la ragazzetta vicina e per fare lo splendido si mette ad andare a 300 all'ora a fare i spenti e si schianta contro un albero, Dio non voglia, ma mica vorremmo andare a dire a quella volontà di Dio che è la morte di quel povero ragazzo, no? Cioè, siamo ragionevoli, ecco, perché è chiaro che non si muove la foglia che Dio non voglia, ma Dio non è che vuole tutte le cose che accadono con volontà positiva e intenzionale, perché il peccato non lo vuole, e quanti peccati si fanno ogni giorno durante il mondo? Dio non vuole nessun peccato, nessuno, e non ha dato a nessuno il permesso nemmeno di dire una bugia di scusa, non c'era nessuno il permesso di fare questo. Ecco, bene amici, con questo abbiamo finito il secondo comandamento e possiamo mettere punto, come dice la buona Luisa Pecchi Carreta, il terzo appuntamento alla prossima puntata. E che Dio vi benedica e la Madonna tutti e sempre vi protegga.